Buonasera a tutti, rivolgo un caloroso benvenuto anzitutto al Presidente di Regione Lombardia, Avvocato Toglio Fontana, un saluto ai Presidi, all'Assistente Ecclesiastico Generale, Monsignor Giulio Dori, in particolare al Professor Paul Coyle, che ci onora della sua presenza e che svolgerà poi il suo key speech più tardi. Al Delegato della Ricerca, Professor Doboli, al Professor Molteni, Delegato ai Rapporti con le Imprese, e al Dottor Gatti, un ringraziamento per essersi fatti promotore di questa iniziativa, che è, dedicherò poche parole di introduzione, oltre ai saluti, un'occasione molto originale in cui una Università rappresenta le proprie attività di terza missione. Lo fa in un modo organico, comprensivo, offrendo l'insieme delle proprie iniziative. Terza missione che ha acquisito un ruolo e un significato non solo operativo, ma culturale, negli ultimi anni. Da quando la si è messa meglio a fuoco, si è capito meglio che cosa sia, perché, ad essere sinceri, che cosa fosse questa terza missione, nello stesso contesto delle Università, fino a pochi anni fa, non era affatto chiaro. E al di fuori, evidentemente, al di fuori, in contesti non specialistici, lo è ancora di meno. Soprattutto, è importante comprendere, questa ne è l'occasione, che terza missione non è necessariamente il terzo scalino, il terzo passo di un luogo che conduce da qualche, di un percorso che conduce da qualche altra parte. Chi si occupa di diritto ha imparato che, dai tempi del diritto romano, la terza categoria è quella dove finisce ciò che non si sa dove mettere. Dentro le prime due, le obbligazioni nascono dal contratto, dal fatto illecito, e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo e secondo la legge. E via dicendo. C'è una prova zen quella di parlare in quest'aula. Tra il microfono dicevano che De Mosten era in grado di parlare di fronte a un pubblico distratto, rumoroso e sonnolento. Io sto imparando a farlo da quando sono qui, perché quando non funziona il microfono parte la campana e quindi in qualche modo si riesce a dover affrontare anche questo. Fa parte della terza missione, le famose soft skill, imparare qualcosa di estremamente complicato. Ma il vero significato è questo. Questa terza missione comprende non solo quelle attività che un tempo o inizialmente pensavamo l'autorità pubblica ci richiede di fare per procurarci quei soldi che non è disposta a darci. Non sono solo attività di appunto insegnamento a pagamento extracurricolare, di consulenza alle imprese. È qualcosa di più. È il superamento della distanza che si era creata tra l'università e il mondo che sta fuori. Una distanza che non è detto affatto che all'inizio fosse da valutare negativamente. Le università, ci ricordiamo, non voglio fare la storia del Medioevo perché vi spaventerebbe, ma erano extraterritoriali, erano luoghi di diritto di asilo secondo certi ordinamenti. Ma anche nel modello ottocentesco, quello di Humboldt, erano comunque di luoghi sì finanziati ma rispetto ai quali lo Stato doveva garantire l'indipendenza, l'indipendenza del sapere, l'indipendenza dell'insegnamento. C'è anche nella Costituzione libertà di ricerca e libertà di insegnamento. Quindi il fatto che l'università fosse qualcosa di, in certo modo, separato dalla società, dalle strutture politiche, dall'organizzazione del potere, non era necessariamente un fenomeno disdicevole. Per fortuna, superati o abbattute certe ragioni di preoccupazione, il rischio, il timore di determinati condizionamenti, essendo in certo modo scontata la libertà di ricerca e di insegnamento, si pone l'altro problema, cioè di portare questo insegnamento più vicino a chi lo deve utilizzare, alla società. Per anni è successo, lo sappiamo, che le università partessero dall'idea che quello che insegnavano era quello che era giusto fosse insegnato, indipendentemente dal fatto che servisse a qualcosa a coloro che dovevano utilizzare il prodotto dell'università, cioè i laureati. Riuscire a far parlare questi due mondi, avviene attraverso l'orientamento, attraverso le strategie di collocamento dei laureati, ma avviene ancora più efficacemente attraverso queste attività, che mettono in connessione università e i bisogni della società che sta fuori. E non è per la nostra università una cosa così nuova, perché è già dal 25, all'epoca, i padri e i gemelli, che vennero avviati questi che venivano chiamati cicli di conferenze e lezioni straordinarie dedicati a laureati e persone colte. Formula che oggi non si userebbe, anche perché potrebbe apparire probabilmente politicamente scorretta e divisiva, però all'epoca c'erano le persone colte. Cioè l'idea, l'attività dell'università non si ferma nella fase della, che oggi chiamiamo undergraduate, nella fase dell'insegnamento al diplomato che acquisisce un titolo di istruzione superiore, ma va avanti. Si rivolge ai laureati e alle persone dove in questo colto c'è l'idea di uno che, anche se non ha il titolo di studio, ha comunque un interesse culturale che si vuole coltivare. E a lui l'università cercava di dare una risposta. Oggi la nostra terza missione quindi si sviluppa nelle attività appunto di lifelong learning, continuo a confondermi su questo, nelle attività di relazioni di tipo consulenziale con le imprese e nelle attività di ricerca traslazionale, di ricerca, questo per la medica, o di ricerca comunque applicata. Con una serie di benefici, mi avvio la conclusione, che ricadono a favore della stessa università che appunto riesce in questo modo ad acquisire la sensibilità delle esigenze e riesce anche ad arricchirsi di competenze, capacità, conoscenze che si generano al di fuori di essa. Per ragioni di varia natura, il luogo di formazione e conoscenza non è soltanto il luogo deputato agli studi, ma anche il luogo dove si generano conoscenze di più immediata finalità applicativa. E allora è particolarmente interessante comprendere che questo tipo di attività o di profilo dell'attività dell'università cambia nome, comincia ad avere un nome proprio, non è più la terza missione, ma comincia ad avere il nome di social engagement, exchange and impact activity, cioè si va a guardare qual è la relazione sociale, qual è la capacità di impatto della produzione di conoscenze e di insegnamento continuo, di formazione continua che un Ateneo genera, e si passa, ultima definizione prima di lasciare il campo a chi meglio di me ne parlerà, dall'idea che era maturata qualche decennio fa e aveva anche generato l'attivarsi di qualche anticorpo, dall'idea di entrepreneurial university, che era legata proprio a quello che dicevo all'inizio, cioè una concezione della terza missione come una fonte di ricavo integrativo per consentire all'università di raccogliere fondi ulteriori rispetto a quelli statali o a quelli rivenienti dai suoi tipici canali di ricavo, cioè le reti degli studenti, passa, dicevo, dall'entrepreneurial university alla idea di civic university, cioè l'idea di una università che non si chiude, anche per ragioni di sicurezza, come aveva fatto nel passato, all'interno di un qualche recinto, ma di una università che sta dentro nella società e che si preoccupa in modo profondo della capacità di influire la società, di scambiare conoscenze, non solo di trasferire, ma esisto, di scambiare conoscenze con il mondo che le sta fuori. Allora, di fronte a tutto questo, a questo ventaglio di scopi e di relazioni, sono molto contento che oggi l'università abbia potuto, la nostra università, rappresentare tutto quello che fa con le sue 12 facoltà, in realtà 11 perché qui rappresentiamo le attività delle sedi padane, non quelle della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma, che ha a sua volta moltissime occasioni e un'attività, come è facile immaginare, intensissima, ma anche altrettanto specifica, quindi è quella la sede romana nella quale essa periodicamente molto efficacemente si rappresenta. Qui raccontiamo quello che facciamo con le nostre scienze umano-sociali, matematiche ed agrarie nelle sedi padane e lo facciamo, ripeto, una volta per tutti, in modo organico, in modo intenso, per dare l'impatto di tutto il lavoro che viene fatto, non da me, ma dai miei colleghi, dai direttori di alte scuole, di centri, di centri di Ateneo, che ringrazio per la loro costante attività. Detto questo, ringrazio nuovamente voi per la vostra presenza e lascio la parola a questo punto, se non sbaglio sulla scaletta, al professor Doil, che ringrazio, Coil, perché ringrazio per la sua presenza. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. entrepreneurial mindset network it is an international network with members currently in 22 countries our aim is to support individuals team leaders and organizations to benefit from having an entrepreneurial mindset a mindset which mimics the way in which entrepreneurs think and act we are demonstrating that the benefits of the entrepreneurial mindset are not confined to running your own business but they are valid in virtually all walks of life including within universities where students of all disciplines can adopt the mindset and the university itself can be organized in a more entrepreneurial way it is a great honor to be invited to speak at this wonderful event today and my topic is the living university i define this as a university that makes an essential contribution to the life of its city its region and the country as a whole a university that lives builds starts innovates is alive is dynamic is changing a university which works in partnership with others to create economic social and cultural value for society a living university that creates the seeds of a successful future for all of us i want to begin by asking you what are your hopes and ambitions for the students of the university most of us would say that we want each student to experience a high quality education an education that will enable them to grow as a person and achieve their full potential to live their lives students want to enjoy their studies pass their assessments get good grades and secure their first job they want to be employable work i have done with universities in australia and china throughout europe south africa and the united the united kingdom has shown me that all around the world the employability of students is increasingly important not only to students but to parents and businesses and governments it is worth emphasizing that a focus on employment does not diminish the higher values of education and the goal of developing well-educated citizens who can fully contribute to society indeed this university is to be congratulated for the international recognition it has received for the quality of its initiatives that support the employability of students if we think for a moment about the knowledge and skills that students must have in order to get a job we quickly recognize that students need to know about the real world and all its complexities of course they need to leave university with a deep understanding of the theory of their chosen discipline and an awareness of the relevant field or industry in which they wish to establish a career however they also need to develop their skills of creativity innovation communication teamwork and even leadership they need to appreciate how the world really works and where they fit into it they need to understand how they can be employed or become self-employed or create employment for others through entrepreneurship above all they need to develop the right mindset one that is going to empower them to navigate a world that is increasingly full of uncertainty and complexity and this understanding of the real world is relevant to every discipline whether that be agriculture, arts, economics, education, finance, law, maths, medicine, philosophy, psychology or science in thinking about our ambitions for students it's useful to create a list of what they will need to know and the skills that they must develop once we have such a list we can then ask ourselves what is the role of the professors in helping students to achieve these outcomes we can ask ourselves what tools should professors be using to help students learn which are the right tools that will help students to get maximum benefit from the subject expertise of their professors their research and their external connections at this university students have a wonderful opportunity to benefit from 82 research centres and 10 scientific areas of research including in mathematical and computer sciences biological sciences antiquities and artistic sciences political and social science in terms of classroom activities how will the professors design the curriculum devise the teaching and organise the assessments this will of course include traditional lectures and tutorials professors should also be open-minded about curriculum innovation and new ways of teaching professors will seek to integrate theory and practice and create the links between the classroom and the real world maybe they will be exploring the potential benefits of collaboration between the many academic disciplines of the university they will need to emphasise learning through doing giving students practical exercises real world case studies and projects based on the everyday needs of the local society and in doing so they will adopt a variety of roles not just as lecturer but also as expert researcher facilitator coach and co-creator however I am not arguing for an unrealistic expectation of what each individual professor can achieve the central role of the professor is vital and will continue but many universities have also recognised that a wide variety of individuals within and outside the university can also make useful contributions to students' learning there are important roles to be played within the university by library staff careers advisors enterprise mentors there should also be opportunities for students to learn from external people from guest speakers industry experts business women and men public sector workers not-for-profit and voluntary sector workers students can also learn from internships and work placements and ideally past students the alumni of the university should be invited back to share their career experiences thus there are a wide range of internal and external people who can all bring subject knowledge insights their different points of view to enrich the education of the students now that I've talked about our ambitions for students and the role of professors in helping students to achieve these outcomes we can ask ourselves what is the role of the senior staff of the university the leaders how can leaders support the activities of the professors and the students how can leaders encourage professors and help them to take risks with new courses develop innovative ways of teaching launch joint research projects and reach out to local communities what can leaders do to improve the overall performance of the university when people are asked what makes a good leader they often talk about somebody who can see the path ahead someone who has a vision of the future who has a strategy to get us all there and who can inspire people to want to go on that journey we expect university leaders therefore to understand how they can help to build the university's international reputation for the quality of its teaching research and third mission activities and in doing so they will be starting new initiatives getting people on board and finding ways to accelerate the pace of change in fact we have very idealistic views of how leaders will behave we expect them to adhere to the highest standards to live out these values and to be role models of these desirable behaviours many studies I have conducted repeatedly show that people define a good leader as creating trust being decisive well connected fair ethical and not afraid to deal with difficult issues in reality there are many challenges that leaders face in living up to these ideals it's difficult to predict the future decision making in universities can be very slow it's not easy to get people to work together across disciplinary boundaries and things can become very difficult when you decide to challenge the status quo despite the difficulties leaders need to continually try to improve their understanding of the role they can play in stimulating innovation risk taking and more efficient ways of working whilst I work with university leaders all over the world to help them to become more innovative one of the key lessons I have learned over many years is that you do not need to be in a formal leadership position to exercise leadership if we define leadership as having a vision for what needs to change and the ability to inspire other people to take action then this is something that every one of us can do in our lives I hope that I'm helping you to build up a picture of the university that you see the university as a community of students professors and leaders not forgetting the important role of support staff and campus managers support staff who provide a wide range of expertise which is essential to helping a university achieve its strategic goals through their contributions in marketing student recruitment procurement finance research and enterprise support development of the estate and human resources the running of the university when we look at the university as a whole we imagine an organisational culture which is ambitious adventurous dynamic confident and innovative a living culture which supports innovation within the faculties removes barriers to collaboration and strives for the very best in research and teaching a university that is constantly updating its internal systems and processes so as to maximise efficiency and effectiveness and which ensures financial sustainability over the long term through the careful planning and allocation of resources a university which tries to achieve excellence and quality in all its activities which can identify small pockets of good practice within the organisation and is capable of scaling these activities up to the university as a whole however the university cannot achieve these things in isolation it cannot be a castle on the hill remote and inaccessible of course this belongs to third mission it's very it's very unusual to have to compete for attention with a plant on a stage but we can do it yes a university which tries to achieve excellence and quality in all its activities and the university cannot achieve these things in isolation it cannot be a castle on the hill remote and inaccessible of course it can refresh itself through the recruitment of new and talented students and by hiring the best professors more than this it must keep its borders open building deep and meaningful connections to the local ecosystem to the city to the region to the nation and to international connections only then can it truly be alive sustaining and refreshing itself for the future measuring and celebrating its successes enhancing its reputation competing at the international level whilst also not afraid to create its own distinctive character and culture and aspiring to the achievements of the university which is highly recommended by home and overseas students and highly placed in the international and national world quality rankings so I'm arguing that no university should operate in isolation from its ecosystem every university must interact with its location its city and region and university business collaboration is important for business but also for the university it's a two-way relationship collaboration should be informed by strategic partnerships and hopefully a shared vision I'm a big fan of being very influenced by Henry Etzkevitz's work on the triple helix model and he goes even further and imagines that universities businesses and government enter into a reciprocal relationship in which each one attempts to enhance the performance of the other so we could ask ourselves how can this university support the local ecosystem and in turn how can the ecosystem support the university university business collaborations can bring invaluable new insights to the university enabling professors to enrich their teaching and research allowing students to study with real life examples shared by their professors joint research between professors and business can lead to new commercial services innovative products patents and spin outs people from outside the university from the ecosystem can be invited into the university they can give professional talks speak at networking events provide mentoring career advice help students with their CVs they can advise on the curriculum provide guidance about the skills that students need to develop help to define the scope terms and conditions of internships and provide case study materials and live projects in turn employers can then be confident that graduates will be work ready and able to make a difference in the workplace fortunately there is now a great deal of international research available on the topic of university business collaboration including case studies and good practice guides however what I have noticed is that this information tends to be presented from the point of view of the university I've personally found it very useful to seek out descriptions of university business collaboration from the business point of view what you find is that industry can easily identify that there are strengths and opportunities in university business collaboration as well as inherent weaknesses I would argue that we need to see university business collaboration from the perspective of those outside the university only then will we be more likely to understand and to be able to meet the needs of business industry and local communities again I think we must be realistic and acknowledge that collaboration does not come easily you really have to work at it in principle every modern organization is in favor of cooperation and in practice the culture of many organization works against that it is often the case that universities do not have strong incentives to orient the content of teaching and research to the demands of the economies in which they are located and so it's not unusual to find an emphasis on theory rather than practice and consequently a mismatch between the curriculum and industry needs however we are gaining a better understanding of the potential barriers to university business collaboration we know much more about how to recognize these potential obstacles to anticipate them and to plan how to overcome them for example we know that there is a need to break down the silos within the university to have well developed central services and a clear understanding of the potential benefits of collaboration it helps if we have some professors who have previous business experience and can talk both the languages of academia and the language of business it's a good idea to create more opportunities for regular meetings with external people in order to build up mutual trust and establish strong connections particularly given that university business collaboration is just one of many competing priorities for professors ultimately we want to be able to point to measurable outcomes economic social and cultural that benefit the people of the city now measuring societal impact is not easy but many countries around the world are attempting to do so there are numerous examples of cities themselves developing their own strategies for innovation so we can all begin to benefit from the lessons of various research projects which have examined what is it that makes a city successful for example the European Digital City Index identifies the importance of such issues as appropriate levels of tax rents of broadband availability speed and costs of quality of life professional and personal networks of access to local and international markets of transport links and the availability of the right talent and it notes therefore that Milan represents one of the most important European city hubs for big corporations and start-ups that the city hosts more than 20 incubators and accelerators more than 30 co-working spaces and over a thousand innovative enterprises it makes it the centre of the start-up ecosystem in Italy in fields such as fintech food tech fashion tech biotechnology medical devices new materials energy and digital innovation the study also notes the importance of the large student communities in the city and the value of steps taken by the universities to link students and local entrepreneurs I want to take the idea of ecosystem a little bit further and think about how the university must be understood not only in terms of the city but also within the regional national and even international contexts national governments around the world are increasingly looking to universities to generate economic benefits and in many countries there is a strategic dialogue between the government and the universities with cross ministerial collaboration there are many international studies and a growing volume of information on the economic impact of higher education as well as established data sets on the economic performance of individual countries just one example is the global entrepreneurship index which identifies Italy as being world leading in product and process innovation but with weaknesses in human capital startup skills risk assessment and high growth what are the implications for what we're doing in the university if these are the issues for Italy as a whole according to the World Bank Youth and Employment in Italy is at 35% yet Italy is by no means the only country facing high levels of youth unemployment which needs to be seen within the wider context of radical changes worldwide in the structure of employment it causes us to ask ourselves do students need to be prepared for working in smaller startup companies and not just large organizations will they actually experience a mixture of employment and self employment comprising a portfolio of income generating activities I think we are all familiar with substantial changes over recent years in so many industries banking car manufacturing fashion healthcare music newspapers shopping travel these changes we experience in our day to day lives and we are familiar with them what further changes are yet to arise from the impact of new technologies and artificial intelligence in particular and if so many industries are going through such radical transformation we can ask ourselves when will it be the turn of the universities maybe we need to examine our assumptions that we will continue to organise higher education predominantly through universities we find ourselves asking what is a university why do we have them what should they achieve how will we judge their contributions to society what role should they have in generating economic benefits in addressing economic and social inequality what part do they have to play in solving the grand human challenges of ageing populations climate change food and water safety and mass migration when we think about these grand challenges of life we can then ask ourselves what is the role of Italy of Milan of this university of its leaders of the professors and the students what part is there for each and every one of us in this room today what are the implications for how students should be taught for the research that professors undertake and the connections into the city I would argue that we all need the right mindset to tackle these challenges instead of seeing problems and hoping that somebody else is going to do something about it we ask ourselves what am I going to do what am I going to do today at the entrepreneurial mindset network we use a simple mnemonic which helps people to understand how they can think and act in a more entrepreneurial manner and it's simply the word mindset spelled out m we have as meet a real need provide solutions that people really want and value I innovate be open to change help to create options for change N never compromise on your values comply with regulations and professional standards and act ethically at all times D dare to take a risk even at times if that is just saying what you really think S see the big picture understand the big issues and engage with the local ecosystem E exercise for greater productivity there is always going to be more for us to do with less time and we won't get better at doing that unless we work at it learn how to make creative use of the available resources and how to make smart use of technology T take the initiative assume personal responsibility motivate yourself and others and these are the behaviours that all of us can adopt and benefit from in our day-to-day lives so in conclusion we started by imagining our ambitions for students and I argued that students need to be ready to contribute to the problems of the real world I see them ultimately as being active rather than passive empowered through their education willing to take personal responsibility and asking themselves what am I going to do to make this possible I'm arguing for a coherent and integrated approach to the three streams of teaching research and knowledge transfer I don't believe that the concept of higher education can be fixed in the ideas of a hundred years ago however a university can honour those traditions of the past and at the same time it must be adapting its teaching and research to the needs and realities of the modern world such a university is fully engaged with its city its region and country and is working in partnership with others to create economic social and cultural value the ecosystem influences the university the university influences the ecosystem it is a living symbiosis a myriad of mutually beneficial relationships the university becomes a living community with a willingness and capacity for change honouring the past but able to challenge the status quo it truly is a living university one that creates the seeds of a successful future for all of us thank you applause thank you thank you Bene, buonasera a tutti. Il mio compito è quello di dare un quadro rapido della multiforme attività che la terza missione ha nella nostra Università. In questo senso innanzitutto vorrei chiarire il termine, molto è già stato detto, ma è un termine per molti nuovi, soprattutto per chi è ospite tra noi questa sera. Che cos'è la terza missione? Appunto l'apertura verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze. E io vorrei sottolineare questo circuito virtuoso perché certamente è l'attività di insegnamento, è l'attività di ricerca scientifica che sono il motore dell'attività di terza missione. Questo è evidente. Ma c'è anche un effetto di ritorno perché terza missione vuol dire essere immersi nella realtà, vuol dire essere stimolati dai problemi più vivi. E quindi c'è sicuramente un rebound positivo nei confronti del modo con cui insegniamo e nei confronti dei temi di ricerca che scegliamo. Quindi questo circuito è certamente molto importante. Quindi la terza missione è a tutti gli effetti un motore di qualità dell'università. Per quanto riguarda i contenuti, ecco, questo è un po' analitico, ma è giusto per darvi un po' il senso del territorio di questa attività, che va dalla gestione della proprietà industriale, i brevetti, per la nostra facoltà di agraria sono molto importanti, gli spin-off, perché dall'università nascono imprese che spesso hanno risultati interessanti, le attività in conto terzi come ricerche e consulenze, le strutture di intermediazione nel senso di incubatori, trasferimenti tecnologici. Vedete che c'è un mondo di attività che valorizza la ricerca. E poi ancora la gestione del patrimonio e delle attività culturali, le attività per la salute pubblica, la formazione continua che di per sé costituisce un mondo particolarmente ricco e sempre più importante, e il cosiddetto public engagement sul quale tornerò più avanti. Ma vado molto rapidamente per non rubarvi tempo. Qual è la caratteristica di questa attività? Voi sapete che l'asse portante dell'università sono le facoltà e sono i dipartimenti, ma la terza missione ha la caratteristica di essere, come dire, una responsabilità istituzionale dell'Ateneo in quanto tale, che in quanto tale ha quindi una modalità, un modo originale, differenziato di rapportarsi alla comunità, con le proprie specificità, con le proprie aree disciplinari. E in questo senso, se voi poi, alcuni di voi l'hanno già fatto e poi faremo insieme magari un giro nei chiostri, ci rendiamo conto di una grande vastità e varietà, appunto sorprendente, di quanto una università come la nostra è in grado di offrire in dialogo con la società. E dall'altra parte è anche interessante vedere come ci sia un filo rosso, come l'identità della cattolica si ritrova dentro questa varietà di iniziative, di progetti. Quindi, certamente, ne ho segnato alcuni, alla frontiere delle conoscenze, ma sempre con una centralità della persona, con un'attenzione all'ambiente e alla sostenibilità, lo abbiamo appena visto con la pianta, con quanto cura ne abbiamo presa. L'attenzione alla famiglia e ai corpi intermedi, no? E poi, diciamo, uno spirito che, secondo me, caratterizza la nostra università di positivo sguardo verso il futuro, di speranza per un cambiamento. Io penso che questi siano tratti della nostra università che voi ritroverete in tutti i diversi progetti che vengono presentati, e mi sembra molto importante. Per capire questa varietà bisogna fare una galoppata lungo i diversi attori della terza missione, perché, e questo è molto importante, la nostra università ha fatto nella storia una scelta ben precisa, che è la logica che ho chiamato, che chiamiamo dell'imprenditorialità diffusa. Cosa vuol dire, no? Non c'è una forte centralizzazione, no? E questo è una condizione per valorizzare, ma, 1500-2000 persone che pensano fortunatamente in modo diverso, con ricchezza di impostazioni, con ricchezza di interessi, eccetera. Allora, imprenditorialità diffusa vuol dire un sostegno da parte dell'università alla libera iniziativa di docenti, e soprattutto di gruppi di docenti che si raccolgono a certi temi, quindi un'ampia articolazione con un coordinamento leggero, che non ha la pretesa, come dire, di stringere, di ridurre troppo dentro un certo alveo, fornendo però un supporto organizzativo e di comunicazione che è essenziale per raggiungere il pubblico e per anche moltiplicare questo tipo di attività. Allora, questa imprenditorialità diffusa cosa vuol dire? Vuol dire che, per capire la terza missione della Cattolica, bisogna un po' orientarsi in questa varietà di soggetti, no? Alte scuole, centri di ricerca, centri di azione, eccetera, eccetera, ma è questo che illustrerò brevemente nelle prossime slide. Innanzitutto, sono partito, forse per ordine alfabetico, dalle alte scuole, no? Sono centri di eccellenza che hanno una forte vocazione internazionale, con un'attività molto varia al loro interno, formazione, ricerca, consulenza, e ce ne sono ben otto. Per comodità, guardiamo le parole in blu per capire un po' quali sono i territori. Comunicazione spettacolo, imprese e società, psicologia, relazioni internazionali, giustizia penale, ambiente, economia agroalimentare, sistemi sanitari. Vedete una varietà di temi rispetto ai quali, appunto, noi speriamo di incontrare l'interesse diretto di ciascuno di voi, nelle varie forme con cui le alte scuole operano. Ma le alte scuole sono, diciamo, una punta particolarmente organizzata di una realtà che, come dicevo, è molto più diffusa, perché passando ai centri di ricerca ci sono ben 80 centri di ricerca nella nostra università. Ciascuno che svolge ricerche, interventi con obiettivi specifici, coinvolgendo anche docenti di vari dipartimenti, di varie facoltà, eccetera. Quindi, evidentemente, era impossibile descrivere gli 80, ne vedrete un po' nei corridoi, ma vuol dire che sostanzialmente tantissimi interessi sono coperti, coltivati all'interno dei centri di ricerca. Poi abbiamo una peculiarità del nostro Ateneo, che sono appunto i centri di Ateneo. Cosa sono i centri di Ateneo? Sono dei centri che si dedicano a temi di particolare rilevanza strategica per la società e poi per un mondo di riferimento che ovviamente è specifico della nostra università, che è la realtà ecclesiale. Allora, di fatto, ci sono dei centri che hanno a che fare con delle sfide decisive per la nostra epoca. Guardiamo, bioetica, famiglia, dottrina sociale della Chiesa, solidarietà internazionale, la vita, il tema del food, dell'alimentazione, il tema del territorio, nel senso del rapporto tra le imprese, la formazione, l'internazionalizzazione, piccole e grandi imprese, eccetera. Vedete che sono sette temi che hanno una specificità, hanno una valenza particolare proprio dal punto di vista di snodi culturali centrali per la nostra società. Detto questo, quindi, abbiamo visto già quasi un centinaio di soggetti, per far capire un po' come questa corazzata si muove e riesce attraverso questa modalità a ritrovare l'agilità che è necessaria. Ci sono poi le facoltà, i dipartimenti, gli istituti che oltre a fare il loro proprio mestiere, che è quello della formazione e della ricerca, anche loro talvolta diventano soggetti di terza missione, anche perché sono coadiuvati da un'unità organizzativa che si chiama formazione permanente, che supporta la loro azione e spesso fa in modo che, accanto ai nostri docenti, ci siano moltissimi professionisti che si implicano con l'università e contribuiscono ad arricchire l'offerta dell'università. Poi una novità, una cosa degli ultimi anni, è quella dei cosiddetti tavoli di cattolica pera, anche questi li potrete vedere nei chiostri. Che cosa vuol dire? Ci sono certi settori, certi ambiti settoriali, per cui, che sono rilevanti per la società italiana e sono anche importanti per la nostra università, perché abbiamo varie competenze che si possono orientare a soddisfare quei bisogni. Quindi sono dei poli di coordinamento con una piattaforma comunicativa, c'è un sito web per ciascuno di questi tavoli, ci sono dei materiali di comunicazione ed è anche un'interessante modalità, come dire, per forzare, per spingere nella direzione di un'attività multidisciplinare. E questo è una cosa importante, perché ormai, dal punto di vista per rispondere ai bisogni della società, non possiamo mantenere i silos universitari, i silos delle discipline, ma dobbiamo innanzitutto noi imparare a lavorare tra di noi, a imparare, a capire i metodi dei nostri colleghi e in questo modo rivolgerci alla società. Vedete che i tavoli sono su temi molto accattivanti, molto interessanti, lo sport, il turismo, la scuola, le start-up, la pubblica amministrazione, il terzo settore. E questo è un fenomeno che si sta articolando e che quindi arricchisce la nostra proposta. Da ultimo, un cenno anche al fatto che abbiamo un CONLAB, che sta per Contamination Lab, cioè uno spazio di co-working in cui i nostri studenti e anche fuori da essi hanno sostanzialmente la possibilità di sviluppare nuove iniziative imprenditoriali con un periodo di incubazione di sei mesi, con una formazione ad essere dedicata in parte generalista, in parte specialistica e così via. Ecco, vi ho dato il quadro degli attori perché senza capire questa articolazione non ci si rende conto poi della varietà dell'attività. Quanto all'attività, non posso, non è questa la sede per entrare nello specifico, ma la faccio passare rapidamente. Innanzitutto, il tema del lifelong learning. Voi sapete evidentemente che, come dire, le professionalità che si accumulano durante, le competenze che si accumulano durante la carriera universitaria, purtroppo, fortunatamente, diventano velocemente obsolete, necessitano di iniezioni di nuove conoscenze. Per cui, sempre più, appunto, si parla di una formazione che riguarda tutto il percorso professionale. Di qui i master, gli MBA, i corsi di preparazione per i concorsi professionali, i corsi di perfezionamento, summer school, winter school, realmente una grandissima varietà di progetti che spero possano interessare qualcuno di voi. Condocenti e professionisti, spesso, sempre più, concepiti in partnership con aziende, enti non profit, eccetera. Cioè, non sono progetti che nascono nelle nostre teste, sono progetti che nascono nel dialogo con i soggetti che sono impegnati nella società e che quindi raggiungono, come vedete, tutti i pubblici. L'altra cosa che è interessante e che difficilmente viene ricondotta alla realtà universitaria è la consulenza, sono i progetti di intervento. Invece è importante che le conoscenze che noi sviluppiamo possono consentire degli interventi, delle azioni che mettendo a frutto delle competenze molto avanzate, molto aggiornate, internazionali, eccetera, possono raggiungere realmente i livelli di innovazione e di efficacia particolari. Anche qui è un mondo che si sta articolando, che sta crescendo e che assume, come vedete, studi e ricerche, progetti di consulenza, bilanci di missione, report giornalistici. Ecco, in questi elenchi è sempre più facile far torto a qualcuno che non riuscire a dare un quadro generale della situazione. Ma questo per dire quanto l'università possa essere un interlocutore a questo livello. E poi c'è il tema del public engagement che, come dire, dal punto di vista della definizione è un'attività istituzionale senza scopo di lucro, con valore educativo che si rivolge a un pubblico non accademico. Un numero. Nel 2018 ci sono stati circa 1200 convegni, seminari ed eventi culturali nell'ambito della nostra università. Quindi, pensate alla dimensione, considerando che ci sono le domeniche e ci sono le vacanze, vuol dire che in una giornata normale ci sono cinque o sei proposte che toccano i più vari interessi e rispetto ai quali noi aspettiamo il nostro pubblico senza chiedere nulla se non di coinvolgersi con noi. Poi, anche qui non sto a descrivere, ma questi sono gli spin-off, cioè delle aziende che riguardano varie discipline. Ovviamente, quando si parla di aziende, c'è per esempio la facoltà di Agraria che ha un ruolo importante proprio perché è a ridosso dei problemi tecnologici e che quindi possono dar vita a nuove soluzioni, ma ci sono anche delle iniziative legate a rischi sulla sicurezza e la criminalità, piuttosto che il tema dell'imprenditorialità in Africa, piuttosto che farmaci, diagnostici, insomma, una varietà di realtà che sono nate dalla nostra università e che fanno capire come anche in un'università che ha una forte radice umanistica possono nascere nuove cose. Chiudo, chiudo con le prospettive. Io mi sono azzardato di dire poche cose che mi sembra rappresentino un po' la direzione che abbiamo preso. Innanzitutto ribadire un concetto, cioè quello dell'imprenditorialità diffusa perché è l'unico modo per valorizzare una abbondanza e varietà di energie che sono dentro la nostra università. Poi un altro tema già richiamato quello della multidisciplinarità. Vogliamo lavorare con i colleghi che hanno una cultura e che hanno un background diverso dal nostro con un'attenzione crescente a ricondurre a sistema, perché per esempio oggi è la prima volta che tentiamo di dare questa immagine unitaria, questa immagine variegata ma allo stesso tempo unitaria. intensificando il dialogo con i diversi interlocutori, intensificando l'attività di comunicazione e poi quest'altra parola importante gli alunni. Noi siamo una grande università che ormai ha una lunga storia che si prepara a festeggiare il centenario con persone in posti di responsabilità ovunque e noi pensiamo che questa sia una leva fondamentale anche per intensificare le azioni di terza missione all'interno della nostra società. E quindi l'ultima cosa con la quale voglio chiudere la prospettiva di avere questo evento come un appuntamento annuale in cui rendersi conto strada facendo di un cammino della terza missione che è lunghissimo come storia recente come nome e che ha un futuro certamente molto ampio. Grazie. Applausi Buonasera a tutti io sono il delegato del rettore per la ricerca non è un caso che ci sia il delegato della ricerca accanto al delegato per la terza missione oltre che per rimuovere piante che non vogliono obbedire al ruolo che gli abbiamo assegnato io sono qui per sottolineare la permeabilità tra questi due ambiti che noi distinguiamo da un punto di vista organizzativo e funzionale quello della terza missione e quello della ricerca già il rettore già Mario ha chiedito le forti interazioni biunivoche che intercorrono tra l'attività di ricerca e quella di terza missione tant'è che in molti ambiti spesso con Mario non siamo perfettamente in grado di distinguere che cosa ricade in qualche modo in terza missione cosa ricade in attività di ricerca ma il punto che io vorrei sottolineare che questa permeabilità è crescente diventa sempre più forte e abbiamo molteplici segnali che questa è la direzione futura un'integrazione sempre più forte tra attività di terza missione e attività di ricerca in una linea che potremmo definire di super additività moltiplicativa capacità di far aumentare lo spazio della ricerca attraverso la terza missione e viceversa un ambito in cui questa crescente permeabilità e compenetrazione emerge con notevole forza è quello della ricerca europea noi già nella nella tornata del Horizon 2020 che va a chiudersi nel 2020 abbiamo osservato chiaramente nei criteri di assegnazione dei fondi di ricerca e nello svolgimento dei progetti di ricerca una forte sottolineatura del ruolo degli stakeholders siano essi stakeholders istituzionali industriali o di altra natura i progetti hanno bisogno di coinvolgere questi stakeholders hanno bisogno di tradurre i risultati di ricerca in una modalità che sia utilizzabile immediatamente per gli stakeholders vediamo questa compenetrazione nei programmi di ricerca e nelle strategie anche di regione lombardia qui c'è il presidente è in corso è aperto è ancora aperto questa call hub per l'innovazione che ha delle caratteristiche molto forti da questo punto di vista di chiamata a svolgere una ricerca che nasce già fortemente compenetrata con il sistema produttivo e gli attori del sistema produttivo quasi una sorta di super terza missione fin dall'origine e la vediamo anche in quello che si prospetta essere il carattere il taglio del prossimo programma quadro europeo Horizon Europe 2021 2027 c'è all'interno di questo programma un punto molto sfidante e molto particolare che è quello dei global challenges uno dei pilastri del prossimo programma prevede delle forme di ricerca che vengono definite mission oriented quindi forme di ricerca che prendono a riferimento i grandi global challenges citati da professor Boyle in precedenza e li pongono a guida di cluster di progetti di ricerca e di attività specifiche che possano consegnare alla società dei risultati immediatamente utilizzabili per quelle sfide impatto è la parola chiave di questo pilastro di Horizon Europe e sicuramente determinerà degli impatti innanzitutto sulle università e sugli attori della ricerca che dovranno orientarsi in questo senso fatta questa sottolineatura mi piacerebbe molto commentare quanto ci ha detto il professor Boyle per l'ampiezza la completezza di questo quadro che ci ha presentato ci ha presentato questa entrepreneurial mindset come qualcosa che è una trasformazione sistemica che ha caratteristiche di transizione è una transizione che noi stiamo affrontando da anni come università e come tutte le trasformazioni innovative è una trasformazione per certi aspetti dolorosa noi come ricercatori siamo sempre mossi dall'entusiasmo del ricercatore e dall'ottimismo della possibilità di raggiungere risultati ma è una trasformazione dolorosa ogni innovazione è per certi aspetti un processo distruttivo che darà luogo a qualcosa sicuramente migliore di quello che esiste ma sicuramente comporta una una trasformazione sistemica e molto complessa questa transizione secondo me non ha ancora un ben definito punto di arrivo it's not a close end transition e quindi bisogna capire se ne esiste uno o se continueremo a procedere in una transizione senza un punto di arrivo esattamente definito vi ringrazio molto solo alcune note organizzative il tentativo che troverete nei chiostri è il tentativo di rendere questa ricchezza espressa questa problematicità che avete sentito e questa diciamo nuova dimensione che è stata cercata di esprimere durante tutti gli interventi la troverete abbiamo cercato nel chiostro di rappresentare tutta questa attività quindi il chiostro diventerà un po' come piazza dove ciò che avete sostanzialmente oggi sentito parlato lo troverete fisicamente sono presenti oltre 30 progetti di ricerca evidentemente non sono tutti quelli che l'università ha fatto ma sono quelli che riteniamo emblematici del rapporto del transfer knowledge e della terza missione intesa nel senso più generale che abbiamo visto che vanno dal visto che oggi anche il 14 di febbraio c'è persino un teatro greco con le poesie greche come dire degli innamorati quindi va da questo dal teatro greco all'aspetti di rapporti con l'impresa c'è anche un bellissimo costume di un centro di ricerca legato alla terminologia questo è solo per dire che questa ricchezza girando per il chiostro si tradurrà sostanzialmente anche in aspetto visivo dove potrete incontrare queste persone dove potete parlare e vedere quindi un modo per rappresentare questa ricchezza incontrandola direttamente quindi il tentativo con tutte evidentemente le approssimazioni anche della prima iniziativa non possiamo dimenticare che abbiamo un po' grazie anche alla collaborazione di tutti tentato di buttare il cuore al terzo ostacolo facendo questa giornata la terza missione che oggettivamente ha una letteratura bassa nel resto del sistema universitario quindi abbiamo provato a vedere di fare questa attività grazie alla disponibilità di tutti quindi nel chiostro troverete tutto questo compreso anche ci tengo anche a dirlo persino anche a note di inchiostro nel senso che ci sono anche studenti che fanno l'università ma che continuano a suonare quindi troverete anche una piccola come dire rappresentazione di questa dimensione e potrei andare avanti sto raccontando quelli evidentemente che io spero quindi che il titolo e le relazioni che avete sentito che il titolo quindi l'università che non ti aspetti possa essere nel chiostro come se avete già visto o andarlo a vedere essere sostanzialmente quindi una esperienza di questa università che non ti aspetti e persino la biblioteca che è considerata come dire una cosa che si può vedere anche con poca innovazione o come una cosa come dire quasi la famosa espressione topo da biblioteca abbiamo cercato sostanzialmente di renderla vivace di far capire che anche la biblioteca può contribuire a questo rapporto di transfer knowledge con la società e di rapporto viceversa per cui troverete anche la possibilità di vedere le tavolette sumere e quant'altro dall'altra siccome abbiamo rappresato tutta l'attività non dimentichiamo che nel chiostro troverete tutte queste cose qua di fianco quindi prima di scendere c'è tutta la parte dedicata a progetti emblematici del rapporto col territorio e con il trasferimento tecnologico che sono la facoltà di agraria che qua di fianco ha tre bellissimi progetti da guardare insieme con anche come ha detto il professor Molteni alla parte del Contamination Lab quindi speriamo di essere riusciti a dare con questa breve descrizione visivamente ciò che oggi è stato raccontato durante il convegno è possibile incontrare questa attività scambiare opinioni vedere quindi tutti coloro che sono esterni all'università avranno questa possibilità ma anche coloro che magari già frequentano l'università magari non sanno qualcos'altro perché quindi oltre la comunicazione verso terzi può essere anche una comunicazione data all'interno dell'università quindi rettore possiamo ringrazio a tutti ringrazio a tutti spero che quindi questa unexpected university possa interessare e piacere a tutti quanti vi ringrazio per la vostra presenza ringrazio il presidente per essersi trattenuto con noi fino alla conclusione di questa giornata vi lascio alla consultazione all'esame delle singole iniziative che potranno essere di vostro interesse auguro tutti buona serata grazie 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 grazie